musica 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 come vanno questi ragazzi? vanno bene vanno bene, vanno bene, guarda Adriano si è perso e vabbè ma capita, dai capita poi gli mandiamo il cane a prenderlo chi è il cane? Andrea, è Andrea così diventano un due a perdere l'ho inzigato, ho incominciato a superare io poi avevo attivato la delegata allora ho dovuto superare l'avvocato ah perché ti sei infervorato tu o l'avvocato? io l'avvocato lo vedevo un po' ma oggi chi abbiamo? ma chi abbiamo a New Entry? a grande richiesta dopo un anno Fausti, number one two three tutti e tre oggi a Dagger Gas oggi non sei tre qui perché stavano dietro Alberto non è mai arrivato sull'asfalto vuol dire che ha tagliato da qualche parte si ah oh 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 vediamo ci sono gente che non riesce a salire guarda un po quello cattivo è Valerio è Valerio che è andato a prendere ma con la moto di Omone? no, è Valerio la prende tutta a sinistra non la provate nuove il penna non l'ha provata chi l'ha provata? com'era? bella che è successo? a te ti vuole per cortesia sei arrivato al canale? fai lo spazio al canale sono andato al canale tu sei andato via è andato via io sono entrato non sono andato avanti chiaramente e sono ritornato indietro quindi sei tu che sei andato via? io sono andato via nel canale bello gomma nuova messa la prima a moto vedi che bordini? la gomma nuova mi faticano mezzeller figa è un duro competition extreme tutto e di più insomma Alberto che è vero 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 adria usare per la stampa ma ando cazzo volete andare non lo so volevo c'è sotto era uno stradello però ho sbagliato c'è tu andai a piedi se la puoi accendere? si no no era benzina ok Grazie a tutti.